Negli anni 90 partirono i lavori. Intorno al 2010 fu aperta al pubblico ma in seguito ad una gestione fallimentare fu chiusa e da allora il degrado e i vandali hanno preso il sopravvento fino a renderla impraticabile. La volontà politica dell'amministrazione comunale del sindaco Giancarlo Guercio ha consentito di ridarle nuova vita. Sabato prossimo, al termine di un lungo iter burocratico, sarà inaugurata la piscina comunale di Buonabitacolo. Attraverso un project financing alla GSM Olimpia di Francesca Petrosino e Giuseppe Garone si è fatta carico delle spese per il ripristino, la messa in sicurezza dell'impianto e la gestione della struttura per i prossimi 40 anni. L'inizio di questa attività, spiega il sindaco, rappresenta per tutto il territorio e per l'intero comprensorio un'importante occasione di sviluppo e di promozione delle attività sportive e aggregative, un fiore all'occhiello di cui tutti andiamo orgogliosi. Dopo 30 anni, conclude, risorge come fenice dalle sue ceneri. La piscina comunale era diventata un luogo segnato dal degrado ma anche dalla tristezza. E' proprio lì, infatti, che nel 2018 Carol Lapenta, allora diciottenne, uccise con a quattro coltellate il diciassettenne Alexander Pascuzzo. Una tragedia che rimarrà legata per sempre a quell'impianto sportivo. La sua riapertura allevierà il dolore della comunità ma non potrà mai cancellarlo. Sabato prossimo la cerimonia di inaugurazione inizierà alle 16. Il 2 novembre inizieranno le attività. Per il momento è stata recuperata la piscina semiolimpionica e tutti gli spazi ad essa connessi. Successivamente sarà realizzata nella stessa struttura una sala polifunzionale.